Fino a Pasqua in ospedale solo le urgenze lo ha stabilito la regione Puglia che ha motivato la decisione con la necessità di potenziare la rete Covid, i cui reparti sono vicini al collasso. Oggi ci sono 3623 posti letto nei reparti di medicina e 569 tra intensiva e subintensiva, tra i quali si entrano anche gli 80 posti temporanei che la regione ha allestito da dicembre a febbraio nei principali ospedali delle sei province pugliesi. Era stato previsto che anche alcune strutture private tra queste e casa sollievo di San Giovanni Rotondo avrebbero dovuto mettere a disposizione 44 posti letto di intensiva, 198 di pneumologia, 195 di malattie infettive e 130 di area medica, rinforzando così la rete pubblica ospedaliera. Ma il piano è rimasto solo sulla carta, solo l'ospedale di San Giovanni Rotondo sta garantendo i 134 posti previsti nell'accordo. L'assessore Lopalco, il capo dipartimento salute e Vito Montanaro chiederanno aiuto alle strutture della sanità privata. Servono almeno 200 posti letto, dei quali una cinquantina di terapia intensiva. In giornata si decide. Intanto lo stop ai ricoveri, salvo le urgenze, durerà fino a dopo Pasqua.